Io non ti voglio rispondere alla domanda, perché non ti devo dire quello che faccio all'interno del mio club. Se entriamo in questa dinamica di mi chiedere quello che faccio, con chi parlo, quello che parlo, scusa però sarò un antipatico che non va a condividere con voi quello che faccio all'interno. La domanda del capitano sarà una situazione che prima di tutti la società e i giocatori devono sapere prima di voi.